Pauroso incidente nella serata di giovedì 8 dicembre. Erano da poco scattate le 21, quando un conducente ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, terminando la sua corsa contro un palo delle illuminazioni in località Caselle, a Selvazzano. Inevitabile lo scoppio degli airbag a causa del violento impatto. Completamente danneggiata, la Seat Ibiza. Rimaste ferite le due persone a bordo dell'auto, che sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 per poi essere trasferite al pronto soccorso. I vigili del fuoco, a corsi da Bano Terme, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i carabinieri giunti sul posto hanno eseguito i rilevi del sinistro.